Per voi è una domenica come tante altre, per me è un giorno molto particolare, è il 2 dicembre, è passato esattamente un anno dal mio malore. È stato un anno molto difficile, ma grazie all'affetto dei miei amici, dei miei parenti, della mia famiglia, è vostro! Sono qui e sorrido! E dico viva la vita! Dico viva la vita! Non mollate mai! Vi emozionate tantissimo! Non mollate mai! Mai col sorriso! Siate forti!